Ciao ragazzi, in questo video molto molto velocissimo, veramente a caldo, voglio andare a vedere subito lo spoiler dei nuovi strutture deck, veramente veramente c'è roba troppo forte, troppo grossa Ci sono rimasto particolarmente bene per tutte queste uscite, ovviamente Mago Nero, Gaia, Natema, Perfondere, ma... Soldato di Pietra, un 2000 evocabile di Fitting Room, Gaia per Senju, importantissimo per i rituali, Anziano Mago che si evoca con l'apprendista, Curiba è un demone ragazzi, ricordiamolo Mago della Fede, è reprintato, è buono, Curibos Fede è pure un demone, ricordiamolo Gorò di Soldato d'Oro è il miglior rituale al momento Rilasciare le anime è praticamente side deck contro troppe cose, freccia fa troppo danno 400 e 500 per ogni magia che distrugge, addirittura può distruggere quelle in catena, quindi di conseguenza può fare sempre danno, non fa danno solo alle continue Colpo di Lancio non serve a niente, Turbine, reprintato, 500, spaccuna, scoperta, Arte dell'Avvocatore e via tutti i grossi, ci può stare Spirito Combattente, vabbè, Circo Goblin non ho idea, non mi interessa, Squadra di Riserva, non ho idea, non mi interessa Circo Incantatore, reprintato fortissimo, in 3 per, eliminando la Lega scarto una magia, spacca un mostro e tutti quelli uguali a lui, ci può stare E qua è finito, andiamo a quello Toon, l'idolo, perché ora c'è la fusione, tutti i vari Toon Che non sono male, sono troppo cosici, ma quello Toon che evoca l'oro dal deck, quindi già è molto più forte come cosa Personalmente, secondo me, sarà presente un pochettino Elf e Gemelli Toon è troppo forte, perché è un 1.900, non prevede Toon World e fa scartare una carta in mano Cioè, fatevi conto che è possibile tranquillamente quasi otticappare con questa Con la magia che fa attaccare due volte, quindi troppo forte Il Magus serve per rievocare l'infinite volte abbandono C'è lo sonico per piare arte avanzata del rituale che vedremo fa, un po' di Gin, abbandono Foglio dell'ostativo Toon in 3 per, maschera Toon, fai evocare dal mazzo un tuo Toon grosso Quindi se fai la vaga ma all'avversario puoi evocare un tuo livello 8 Che non mi pare di averli visti per un livello 8 Sono tutti 7 Rip Quindi non funziona con quel coso Zonato di polvere riprintato va bene Sfera di sicurezza riprintato va bene Idolo molto forte, veramente molto forte Corvo DD Veramente una delle end trappi più forti del gioco anche qui Può elevare tipo la quinta di Avaris La terza per il deck Necrofear La può incatenare la trappolina che è evoca di zombie Il target di zombina Mille cose, mille cose Troppo forte, la tuta avanzata è troppo forte Questa è la prima Sono veramente veramente contento Sono ottime carte, ottime riprinte per chi vuole Se qualcuno vuole iniziare a giocare lo può anche fare adesso Solo che è uscito dopo praticamente, ne parliamo da dicembre 5 mesi abbiamo aspettato Paura oscura Iconica è troppo forte Quando muore tipi di un mostro dell'avversario Veramente forte I gialli Spirito è un 2000 Terra Può essere utile in futuro Gap fa mettere tutti in attacco Reades nega i mostri che distrugge Quindi tutti i vari gogipon Insetto Donipon Ora ci sono Vedremo i mimichi New Doria Nega tutto Maestro dei pupazzi Pagli 2000 Devo chiedere due demoni Dal cimitero Ok Prometheus Troppo forte 1200 Rimuovi tutti i dark che ha il cimitero Aumenti di 400 Ottimo finisher A mio avviso Mimico scuro Quando viene distrutto peschi una carta A mio mimico scuro Flippato peschi una carta Maschera riprendita troppo forte Apri una trappola Ricaricatore folle Quando viene distrutto Scarti due carte Peschi due carte Va bene Sicuramente aiuta Ricaricatore è una carta Dark Necrofear Cioè lui scatti Lui è un demone Scatti due demoni Hai già un Necrofear pronto La spada è Offerta da Condannato È molto forte Perché è l'unica carta Che può spaccare Un mostro In qualsiasi momento Essendo rapida In questo caso Non è male Non è male Ha sempre il difetto Che non puoi pescare dopo Però Sicuramente è molto forte Purbin è riprendito Pure qui va bene Ognuno ne avrà sei Ruzione oscura Ti piglia un dark dal cimitero Velo dell'oscurità Allora Velo dell'oscurità Secondo me sarà una carta Che crea di base cose Perché Immagini fare Velo dell'oscurità Mandi tutte cose al cimitero Fai il ruzione oscura Pili Prometheus Lo evochi Pompi Oppure Velo dell'oscurità Ti mandi tipo Tutti gli Skull Servant Fai l'eruzione Ti pigli uno E un 5.000 Boom Fascino È una carta che è troppo forte Che secondo me Non doveva esistere In questo gioco Perché peschi due carte Rimuovi un dark Ora i dark Qui sono tantissimi Il problema è Questo tipo di consistenza Se può essere più o meno utile Sicuramente Peschi due carte È utile Ma Vedremo Rimango allibito Se devo essere sincero Tesco di Zoma Molto forte 1.800 trappola Che dice Quando vieni sotto In battaglia Quindi o tu attacchi O ricevi un attacco Fai danno Quindi se tu attacchi Un Lava Golem Gli fai 3.000 I.000 se li fatti prima Quindi ha perso Carità comune Rimuovi un giallo Peschi due Posto di blocco potente Ristampato È Un'offesa Al fatto che li ho comprati Prima della quarantena Ma In 3 per Molto forte Golem di Lava Iconico mostro Fortissimo Luevo che l'avversario Gli fai 1.000 Tutte le carte Rimano ricche Potentissime Tranne alcuni E Il luce nero Non servono a nulla A mio avviso Vi giuro Non mi piacciono Per niente Demone leggendario È un 1.500 Che ogni stampa È solamente di 700 Quindi 1.500 2.200 Diventa forte Bizer Shock È un 5 Che dice Tutte le carte coperte Tornano in mano Molto forte Se l'avversario Come finisce Secondo me Anche perché Tantissime carte Non si incatenano Quindi sono veramente Forti E il poema È quando Vieni sotto In battaglio Ogni Ogni turno L'avversario Scarto una carta Alla mano Mi hai visto Fa danno Signora Salitrice Fa 800 Danni Rimuovendo Te carte Dalla cima Del tuo mazzo Sono 800 Danni Su 4.000 Veramente assai Death Viser Dice che Quando tu lo evochi È sempre Demone Siamo sempre Demone Attenzione Lo evochi Scusate Quando lo evochi Seleziona un mostro Fino alla seconda Terza standby phase Lui non può essere distrutto Non può essere distrutto Finché c'è quel mostro in campo Quindi tu lo fai Lo metti E dopo lo metti in difesa Per un po' Non muore New Doria Quando viene distrutto Nato Molto forte Scarti una Spacchi Spacchi un mostro Non è malissimo Inverti creatura Via un tuo giallo Dall'avversario Patto faustiano Spacca un mostro E ti evochi E ti evochi Evocato speciale Ed evochi Ed evochi un giallo Dalla mano Livello 4 Squadra di fornimento È molto forte Ogni volta che un tuo mostro muore Peschi una carta Quindi Setti Muore Peschi Setti Muori Peschi Fai cosa Furio nella vita Scarta tutta la tua mano Evochi un mostro Che ti viene distrutto In battaglia E aumenti Di 800 punti D'attacco Vuota incubo Troppo forte Lo segno dell'avversario Non può attaccare 500 danni L'unitore di barri Ogni volta che una carta Va al cimitero Fa 300 danni Poltia un 3000 In difesa trappola Cioè È troppo forte Non è più forte Di insetto Ma è 3000 sono stato Ruggito e orgoglioso E dice che Quando un mostro Attacca un altro mostro Quel mostro Ha lo stesso attacco Del quel mostro Più 100 Quindi vinceva sempre La battaglia Baba Artigli Sembra una carta cogliona Ma non lo è Scusate la parola Ma È un kaiju In questo gioco Quindi lo puoi mettere Tranquillamente Su qualcosa di più grosso Dell'avversario È un 1000 e due di attacco Quindi È ricerca la pietra magica È Iconica di Mari Karik Scarti due Piglio una magia Al cimitero Secondo me Non serve a niente A meno che non devi potenziare Il cimitero Mandando cose Per prendere cose Ma non ne vedo il motivo Quindi Questa qui È la mia situazione A caldo Secondo me C'è tantissimo Per creare Soprattutto Mazzi Barn Veramente Stalli Mazzi Stall Ovviamente Chiunque Penso che si Può comprare Il treppere Il treppere Quindi già Fatevi conto che ha Tre cerchi cantatore Tre ruote dell'incubo Tre lava golem Tre posto di blocco Cioè Tre new doria Tre teschi di zoma C'è veramente tantissimo Solo per fare stall In questo momento Puoi farti tranquillamente Un mazzo Un mazzo abbandono forte Un mazzo rituale forte Anche non abbandono Perché alla fine Puoi evocare Il soldato BLS Puoi evocare Che immuna le trappole Sempre un 3000 Non fa mai male Sempre con i gialli Ricordiamoci C'è alta avanzata Del rituale Poi personalmente In questo Promete il suo TK con velo Secondo me Boh Fattibile Tipo Sempre un giochino così Paura oscura Addirittura Puoi fare velo Mandi Tanti demoni Compese di altre paure Così appena ti rimane Una paura La puoi evocare L'altra Non la puoi riprendere Però Tu fai Fai Turbine in 3x Averla è buona Come tonalto di polvere Averla è buonissima Poi vedremo Sono Personalmente Sono molto contento Vi ricordo sempre Che è meglio Acquistare le 3x E le 3x Per avere tutte queste carte Veramente Vi ringrazio Veramente Una cosa a caldo Sono contentissimo Tantissime reprinte Tantissime carte forti Speriamo che il prossimo set Non sarà fra 5 mesi Un abbraccio Vi amo Ciao 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 ciao